e concludo. In quasi mezzo secolo di impegno contro le mafie ho compreso che sono necessarie si buone leggi, strumenti legali e operativi per le forze di polizia, per la magistratura, per tutte le istituzioni. Necessarie, ma non sufficienti. Si impone una trasformazione culturale nella gestione della cosa pubblica, un ritorno alla cura dell'interesse generale, ai bisogni dei deboli, degli ultimi, la realizzazione di progetti strategici per il futuro del Paese. Di questo non può che incaricarsi la politica, alla quale si richiede oggi un vero sussulto etico. E questo, signor Presidente della Repubblica, signore e signori, credo sia il nostro comune e più importante dovere. Grazie.